Su 36 seggi parlamentari, 19 vanno al centro-destra, l'analisi del voto nazionale e i riflessi sulla politica toscana. Sanità, respinta la mozione presentata da Italia Viva sulla riorganizzazione del servizio di guardia medica. Il Consiglio regionale chiede l'istituzione di una procura nazionale del lavoro, prima firmataria dell'atto, e la consigliera pratese del PD, Ilaria Bugetti. I riflessi del voto nazionale Alle elezioni politiche, anche la Toscana ha svoltato a destra. Sui 36 seggi assegnati nella nostra regione, 19 sono andati alla coalizione di centro-destra, soltanto 12 al centro-sinistra, 3 al Movimento 5 Stelle e 2 al Terzo Polo, composto da Azione e Italia Viva. Fratelli d'Italia è primo partito in Toscana, con 11 parlamentari eletti, 7 alla Camera e 4 al Senato, mentre il PD invia a Roma 10 parlamentari, di cui 7 deputati e 3 senatori. Partito democratico che si avvia al confronto interno nel congresso nazionale e che dovrà sciogliere il nodo sulle future alleanze. Nel centro-destra, invece, già si guarda con entusiasmo alla tornata delle elezioni regionali del 2025. Ritengo che il PD abbia pagato la sua generosità da una parte relativamente al sostegno ai governi che si sono succeduti dopo quello giallo-verde, l'ultimo il governo Draghi, che ha rappresentato anche autorevolezza ed opportunità per quanto riguarda il Paese. Però sappiamo che quando poi si determina una situazione di criticità, di disagio, dovuta magari a più motivazioni, l'ultimo quello che io ho trovato anche in campagna elettorale, del caro Bollette, il riferimento va immediatamente a chi governa. Quindi i partiti che hanno sostenuto il governo sono stati quelli più penalizzati. Dopodiché ritengo ci sia anche il tema delle alleanze, perché essersi presentati nei collegi nominali divisi è chiaro che ha fatto la differenza. Ieri ho sentito il governatore arrampicarsi addirittura in uno strano conteggio matematico secondo il quale avrebbe ancora la maggioranza, perché somma i consensi del PD, quelli della lista di Calenda e Renzi. Forse è dimenticato che la lista di Calenda e Renzi ha fatto la campagna elettorale praticamente quasi esclusivamente contro il Partito Democratico, quindi dubito che oggi questi consensi si possano sommare. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana e quindi il presidente Gianni ovviamente ne doveva prendere atto. Detto questo, auspico nell'interesse della regione e di tutte le province toscane che vi sia una collaborazione tra il governatore Gianni e il governo. Su questo non ho dubbi, perché il governatore da questo punto di vista non credo abbia preclusioni ideologiche a confrontarsi col governo. I risultati arriveranno in Toscana se la Toscana si confronterà ovviamente col governo. E qualora, ma non credo, ripeto, non credo sia un atteggiamento che appartiene al governatore Gianni, qualora si volesse far finta che il governo nazionale non esiste e si continua ad andare avanti con la testa bassa, perché la Toscana è l'ultima delle roccaforti, dove dentro ci stanno asserragliati quelli della riserva indiana, penso che si farebbe soltanto un danno a questa regione. Per cambiare passo la Toscana non serve allargare il campo, serve fare le scelte per le quali ci siamo candidati due anni fa. Serve dire sì al regassificatore, serve non avere doppie misure rispetto all'investimento dell'aeroporto di Firenze, serve fare una misura straordinaria a sostegno delle imprese, serve cambiare passo in termini sanitari, serve fare le cose, serve fare il piano dei rifiuti, non soltanto annunciarlo. È finita la stagione degli annunci e dei proclami, deve iniziare la stagione del governo della nostra regione. Abbiamo tempo sei mesi per arrivare alla metà del mandato, è su queste questioni che noi chiediamo un cambio di passo alla regione toscana e ne vogliamo essere interpreti in termini fattuali, in termini concreti, in termini di azioni di governo, non in termini di strizzare gli occhi a 5 Stelle, che finora in due anni sono sempre stati contro alle nostre politiche. C'è un piccolo richiamo storico a due anni fa, quando il presidente Gianni manifestò la stessa intenzione, ma io non ricordo di aver mai avuto contatti concreti per avviare anche questo percorso, perlomeno da parte sua. Dall'altra parte c'è un'evidenza che il campo largo, larghissimo, eccessivamente largo, che vorrebbe mettere insieme dei programmi totalmente diversi, come quelli che sono rappresentati da Italia Viva e Azione e il Movimento 5 Stelle, quindi un neoliberismo da una parte rispetto a un progressismo e a un'agenda sociale più chiara e netta come quella del Movimento 5 Stelle, non possono stare insieme, questo anche nel rispetto di ciò che le forze politiche esprimono. Quindi se questo, l'idea di Gianni, è quella per cercare di recuperare abbastanza consensi, perché teme un risultato devastante per le regionali del 2025, ecco, mi sento già di suggerire un consiglio non richiesto che l'operazione così posta è assolutamente sbagliata. Io credo che sia qualche anno, parliamo di vento che cambia, quando abbiamo iniziato a vincere i capoluoghi, adesso noi governiamo 7 su 10 in Toscana e questo risultato ci fa ben sperare per le elezioni regionali del 2025, perché evidentemente, come succede in tante realtà, o è successo in altre regioni, le persone cominciano a sentire la voglia dell'alternanza politica e di provare anche qualcos'altro, di provare anche un governo che possa essere di centro-destra, che possa essere diverso da quello che ha sempre visto la Toscana in questi anni e magari nel 2025 ci sarà una svolta positiva anche in questo senso. Noi ci crediamo e lavoriamo anche per questo, perché il programma che abbiamo portato nel 2020, noi, ma anche quello che ha portato Gianni, in realtà è lettera straccia. Il nostro perché ovviamente la maggioranza non ci porta a riflessioni che possano essere utili per il territorio, perché tutte le cose che presentiamo ce le bocciano sistematicamente, e loro perché la loro maggioranza frantumata, come vediamo, non li porta a portare a casa niente, si pensi solo che in questa legislatura, ad ora non abbiamo ancora visto una riforma. La direzione in Toscana è chiara, perché guardate, in Toscana noi abbiamo un programma molto chiaro, su questi temi noi siamo disponibili a confrontarci con tutte le altre forze politiche, quindi a partire dal Movimento 5 Stelle, però i temi sono chiari, sulla transizione ecologica, la nostra proposta che abbiamo messo in campo, soddisfa o no chi oggi non è in maggioranza? Sul tema delle infrastrutture, allo stesso modo, noi pensiamo che debbano essere portate a termine, sulla sanità pubblica e la necessità che il Governo metta più risorse per sostenere le regioni che hanno più sanità pubblica come la Toscana, il Movimento 5 Stelle è a favore o contrario? Io parto dai temi, perché se noi ci rimettiamo di nuovo nella discussione delle alleanze, come abbiamo fatto in questi anni e come dicevo anche prima, noi si rischia di fare il gioco dell'oca che non porta da nessuna parte. Noi abbiamo un programma chiaro, con quel programma ci siamo presentati ai cittadini, se guardo i dati anche ora delle politiche che sono molto differenti, quelle due forze, la centrosinistra più il terzo polo sono ancora maggioranza con numeri importanti a livello regionale, noi ripartiamo esattamente di qui, ponendo poi dei temi e su quei temi confrontandoci con chiunque voglia farlo e questo faremo anche nelle amministrative che ci saranno tra qualche mese. Maggioranza divisa sulla guardia medica Evitare che la riorganizzazione del servizio di guardia medica produca conseguenze incalcolabili sulla sicurezza sanitaria dei cittadini toscani e comporti il depotenziamento del ruolo della professione medica, pericolosi ritardi diagnostici e l'inevitabile intasamento del pronto soccorso e del 118, così come l'avvilimento dell'attività del volontariato. Era questo l'impegno chiesto alla Giunta regionale nella mozione presentata dal consigliere di Italia Viva Stefano Scaramelli, mozione che è stata respinta dall'Aula dopo una discussione molto partecipata. Il testo dell'atto consigliare, su cui si sono espressi a favore i gruppi di opposizione, ricordava come la riorganizzazione del servizio di guardia medica prevedesse una sospensione del servizio nella fascia oraria dalle 24 alle 8 in circa 60 postazioni della regione, sottolineando come il paziente si dovrà rivolgere al centralino unico delle ASL e successivamente ad un numero unico che in base alle necessità indirizzerà ai cittadini alle postazioni con medico o al 118 per le urgenze. Io ho posto con questa mozione un voto del Consiglio regionale perché desse un indirizzo da giunta per fermarsi perché è una riforma che va bloccata che io a suo tempo avevo già bloccato, ho avuto la forza e il coraggio di farlo quando ero presidente della Commissione Sanità e quindi per cinque anni ho fatto in modo che questo non avvenisse. Adesso si ritorna e si tira fuori dai cassetti una vecchia impostazione che lede da una parte i territori rurali che impedisce ai cittadini toscani di avere un sistema di emergenza adeguato alle proprie aspettative che mortifica il volontariato, svilisce la professione dei medici e soprattutto rischia di intasare i pronti soccorso. Andare a togliere i medici di guarda nel territorio è un errore perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto sia importante. Sostituire un medico con un call center vuol dire fondamentalmente svilire la professione sanitaria e medica. Per questo non l'abbiamo contrastata. Dispiace che il Partito Democratico da solo contro tutto il Consiglio regionale abbia voluto difendere una riforma che a mio avviso è indifendibile. Veniva chiesto alla giunta regionale di retrocedere rispetto alla riforma della guardia medica. Una richiesta assolutamente sensata perché nel momento in cui i pronto soccorso scoppiano è evidente che se leviamo la guardia medica aumenta il carico sui pronto soccorsi perché non hanno i pazienti che stanno male la notte altro modo per essere curati che chiamare il 118. Ebbene, quella richiesta è stata votata da tutte le opposizioni, da tutte le minoranze in maniera convinta dal 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia ma è stata bocciata dal Partito Democratico. Quindi la maggioranza non c'è più una mozione che non avviene su una cosa di lato, su una cosa marginale ma su un elemento centrale come la sanità e come la riforma della guardia medica. La maggioranza che sosteneva Gianni qualche mese fa non esiste più. Il Consiglio l'ha certificato così come l'hanno certificato alle ultime elezioni politiche. Enrico Sostegni del Partito Democratico ha ricordato come la Commissione Sanità di cui è Presidente abbia avviato un lavoro sulla riforma dell'emergenza urgenza e sul tema della continuità assistenziale. Di notte ogni guardia medica risponde in media a due telefonate. Qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo è corretto di strutturare un numero unico per la continuità che è il 116-117. Quindi questo comunque va fatto. Secondariamente c'è la ristrutturazione di tutto il tema delle casse delle comunità. In ogni zona ci sono almeno una casa della comunità AB che è aperta H24. Quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto. Quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle casse delle comunità AB. E le preoccupazioni per le aree periferiche l'assessore quando è venuto a presentarla in Commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia media. Quindi lanciare gli allarmi eccetera mi pare che sia assolutamente fuori contesto. Tra l'altro ancora non è stata messa in piedi perché c'è una fase di concertazione che la Giunta sta facendo quindi non si può che dire che è corretto sia perché i dati ci dicono bisogna riformarlo il tema della continuità assistenziale e tutti sono sempre stati d'accordo sia perché la procedura che sta seguendo la Giunta è una procedura di grande concertazione e di grande ascolto prima della decisione. La procura nazionale del lavoro Il Consiglio regionale della Toscana chiede l'istituzione di una procura nazionale del lavoro l'atto che vede quale prima firmataria Ilaria Bugetti del Partito Democratico è stato approvato a maggioranza e impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché la Procura nazionale del lavoro venga istituita quanto prima con l'obiettivo di aumentare la specializzazione dei magistrati e far fronte in modo sempre più efficace alle ipotesi di reato in materia di salute e sicurezza del lavoro Il documento licenziato dal Consiglio regionale fa riferimento alla proposta di legge sull'argomento depositata in Parlamento e sottoscritta anche da tanti parlamentari toscani La Procura nazionale del lavoro permetterebbe di costituire un pool di magistrati specializzati nelle indagini dei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro garantendo indagini incisive e adottando metodologie innovative tra le finalità della proposta di legge c'è anche quella di non limitarsi ad operare in seguito a tragedie già consumate ma svolgere azioni sistematiche e organiche di prevenzione in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la sicurezza del lavoro è un pezzo che completerebbe un quadro dove la regione toscana è sicuramente avanti rispetto ad altre regioni mi viene in mente la legge 28 del 2019 che è la legge che istituisce le forme di collaborazione interistituzionali per la sicurezza dei luoghi di lavoro prevedendo anche la formazione peraltro dell'imprenditoria ma a livello nazionale si dovrebbe secondo me cercare di dare un'omogeneità e di creare anche dei pool specialistici così come è stato chiesto nel disegno di legge presentato al senato il 2052 che è un testo di legge molto avanzato sostenuto peraltro anche delle associazioni degli invalidi su dei luoghi di lavoro e credo che questo per la regione toscana costituirebbe di rafforzare presso i nostri tribunali dei pool dei magistrati che abbiano delle competenze specifiche quindi di poter agire in maniera tempestiva di poter dare formazione e quindi di poter rafforzare dei presidi che possono essere più capillari per non solo intervenire quando ci sono le tragedie ma soprattutto fare prevenzione ecco questo andrebbe a completare un quadro su cui la regione toscana oggettivamente non ha competenze ma di cui c'è bisogno della normativa nazionale in consiglio questa volta all'unanimità è passata anche un'altra mozione presentata da Ilaria Bugetti e da Federica Fratoni mozione che impegna la giunta regionale ad attivarsi tempestivamente affinché sia assicurata un'adeguata e stabile dotazione organica degli uffici giudiziari del tribunale di Prato e affinché siano realizzati gli interventi necessari a garantire la sicurezza della struttura nel presentare l'atto la consigliera Bugetti ha ricordato come a fronte di una pianta organica del personale amministrativo presso il tribunale di Prato che ammonterebbe a 71 unità ne risultino effettivamente in servizio soltanto 40 più una posizione part time una situazione che ha portato il comune di Prato lo scorso 7 luglio a convocare una seduta straordinaria del proprio consiglio comunale per analizzare assieme alle organizzazioni sindacali del settore e all'ordine degli avvocati le croniche e perduranti criticità in cui versa il tribunale anche al fine di individuare possibili soluzioni di tema sentito e rilevante ha parlato Alessandro Capecchi consigliere di Fratelli d'Italia il quale ha ricordato come le disfunzioni negli uffici giudiziari siano diffuse ed esponenzialmente aggravate dalla recente pandemia che ha contribuito all'ulteriore dilattazione dei tempi a Grazie a tutti.